La Deacobotics è il distributore ufficiale in Italia della Dobot. La nostra azienda è una parte d'eccellenza del settore della robotica collaborativa che ad oggi si trova ai suoi massimi livelli nel settore dell'automazione. Perché questo? Perché il Cobot, cioè il robot collaborativo, non è altro che un'estensione dell'operatore. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Cobot può lavorare a stretto contatto con l'operatore garantendo sicurezza e aiutandole in molteplici operazioni. È importante essere qui al Mexpe perché questa fiera è diventata col tempo l'evento cardine principale del settore della robotica ed è ancora più importante per noi mettere a disposizione a tutti i nostri clienti la nostra vastissima gamma di prodotti che partono da un payload di 500 grammi fino ad arrivare a un massimo di 20 kg. La nostra attività ha radici profonde nella robotica tradizionale e col tempo abbiamo visto e toccato con le nostre mani questi nuovi robot e ne abbiamo apprezzato quelle che sono le loro potenzialità. Costatando una forte crescita di questo settore della robotica collaborativa abbiamo avvisato che il mercato richiedeva la necessità di un nuovo modello con delle caratteristiche distintive e con dei prezzi competitivi che siano alla portata di tutti. Da quest'idea è nata la Dacobotics in collaborazione con la Dobot. Ci tengo ad evidenziare che la nostra rete vendita è stata formata col tempo con delle basi molto solide. Questa rete è composta da 5 partner, tutti specializzati nell'automazione che grazie anche a loro riusciamo a ricoprire tutto il territorio italiano dando un servizio di assistenza, di vendita e di consulenza. Questo perché è importante? Perché al di fuori della vendita di un Cobot sappiamo quanto è importante assistere il nostro cliente al fine di ottimizzare l'investimento che ha fatto. La Dobot ha un centro di ricerca e sviluppo a Francoforte con il quale abbiamo contatti costanti e ne condividiamo la nostra esperienza nel settore della robotica. La novità in assoluto di questo stand, di questo marchio, è sicuramente la serie CRA che presenta nuove funzioni di sicurezza come per esempio la gestione di aree di lavoro, un freno elettromagnetico e più segnali programmabili, di conseguenza più funzioni. Troviamo anche nuovi protocolli di comunicazione come EtherCAT, Ethernet Modbus e Profinet. La serie CRA come anche la serie CR può essere dotata di questa membrana bianca che si chiama Safe Skin, è un brevetto Dobot. Noi sappiamo che i Cobot si fermano nel momento in cui subiscono un urto. Grazie a questa membrana, grazie a questo Safe Skin, lui si ferma ancora prima di subire quest'urto, quindi lo evita, come in questo caso. Più mi allontano, nel momento in cui mi allontano, lui continua il suo percorso. Questa membrana funziona tramite induzione elettromagnetica e di conseguenza percepisce la vicinanza dell'uomo. Ultima ma non meno importante caratteristica è la facilità di programmazione. La Dobot nasce nell'Educational e quindi ha stretto contatto con scuole ed università. L'esperienza nel mettere a punto una programmazione intuitiva viene trasferita a quelli che oggi conosciamo come robot collaborativi a Sejas. Con questi dettagli tecnici che si uniscono al design abbiamo un prodotto davvero flessibile con un ottimo rapporto qualità-prezzo pronto a soddisfare le esigenze di tutti i clienti.